Materiale che serve per la sostituzione di un cristallo. Spatola lunga, spatola dentata, silicone neutro e un raschietto. Inserire la spatola lunga sotto il cristallo e muoverlo in modo omogeneo da staccare completamente tutto il silicone. Dopodiché con il raschietto togliere tutto il residuo di silicone. Con l'apposita pistola stendere tutto il silicone lungo tutto il piano. Dopodiché passare la spatola dentata in modo da uniformare la stesura del silicone. Prendere il cristallo, posizionarlo e con dei piccoli colpettini con la mano e muovendolo in modo rotatorio. Farsi di posizionare bene il cristallo. Chiudere la console, controllare che i cristalli non tocchino tra loro. E infine fissare il cristallo con dello scotch di carta. Grazie. 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 Grazie.